Amici sportivi amanti del grande wrestling benvenuti a un nuovo appuntamento con le telecroniche del pandito quest'oggi forse stiamo a vedere il match più estremo che io abbia mai commentato sempre dalla lingua bonor quello che state per assistere è uno spettacolo non per tutti non adatto a chi è debole di stomaco perché questo è un no rope barbed wire match tra due lottatori esperti della categoria hardcore l'uno è Neko Butcher ovvero quello che quello lui vabbè sciamo stare quello che lotta in jeans corti ed è leggermente stempiato e dall'altra parte invece abbiamo BJ Whitmer che sarebbe colui che ha le mutande nere con la banda rossa davanti e che ha i capelli un po' più lunghi come potete vedere la particolarità di questo match che la cui tradizione se così si può dire proviene dalla ECW ma soprattutto dalla giapponese FMW federazione giapponese della quale la ECW si ispirava parecchio per lo stile di wrestling proposto nei suoi show la particolarità di questo match come vi dicevo è il fatto che non ci sono le classiche corde tese insomma in nylon così si può dire ma il ring è completamente ricoperto dal filo spinato quindi le classiche corde sono sostituite da delle corde fatte col filo spinato e inoltre oltre le corde tra virgolette fatte di filo spinato attenzione ci sono anche due tavoli però anch'esse ricoperte dal filo spinato qui di filo spinato è il diciamo l'elemento regnante di questo incontro che come vi anticiperò io questa è la prima volta che lo guardo quindi l'ho scelto sulla fiducia anche per saziare i fan di un certo tipo di wrestling che sicuramente ci sono e che magari gli piace vedere uno spettacolo del genere della verità anche io ai tempi mi piaceva più il wrestling hardcore che il wrestling normale però crescendo i gusti sono un po' cambiati il wrestling hardcore mi piace sempre però preferisco vedere comunque del wrestling all'interno di un incontro quello che difficilmente vedremo in questo incontro qua perché come potete vedere già il fatto che ci sia il filo spinato al posto delle corde già vi fa capire la violenza che ci sarà all'interno di questo incontro allora vediamo BJ Whitmer che nel frattempo chiude il braccio di Neco Butcher in una presa di sottomissione ho già visto delle ferite piccole sul corpo di BJ Whitmer che probabilmente è già andato in maniera fortuita a contatto col filo spinato attenzione Neco Butcher cerca di trascinare BJ Whitmer verso il filo spinato ma riesce BJ Whitmer ad evitare il contatto con il filo spinato e a rovesciare il tutto con un back suplex Neco Butcher che è stato anche protagonista del film The Wrestling del film di Darren Aronofsky anzi lui è protagonista del match estremo combattuto da Randy Trem Robinson e qui c'è il primo contatto col filo spinato e BJ Whitmer che va a contatto col filo spinato col braccio e col petto e qui per, come dire, per peggiorare la situazione Neco Butcher ha colpito BJ Whitmer con la sediata alla schiena come detto Neco Butcher è stato uno dei protagonisti del film The Wrestling film che, come sapete tutti, vinse le Ode d'Oro a Venezia nel 2008 lui è protagonista del match estremo che Randy The Rem Robinson, un vero personaggio interpretato da Mickey Rourke sostiene, appunto, in quel match che il personaggio di Mickey Rourke subisce l'infarto che lo porta a lasciare temporaneamente il wrestling e poi sapete quali sono stati gli sviluppi all'interno del film film che se non avete mai visto, al di là dell'argomento vi consiglio caldamente di recuperare perché è un film veramente, veramente molto molto bello come spero sia molto molto bello il film The Warrior che è uscito ieri nei cinema il film dedicato ai Von Henrich e qui vediamo Neco Butcher che utilizza gli oggetti a suo piacimento, addirittura esegue una body slam con la sedia attaccata alla schiena quindi un ingegno assolutamente alto per Neco Butcher che sa utilizzare bene gli oggetti lui che è uno dei re della CZW la Combat Zone Wrestling la federazione che ha portato in America il movimento del lutto a violence quindi il wrestling hardcore ancora più violente qui guardate come Neco Butcher punisce BJ Whitmer lo chiude, gli chiude la testa in una sedia e poi lo colpisce con un'altra sedia quindi impatto doppio e ovviamente per BJ Whitmer si apre una ferita sulla fronte con Neco Butcher che ovviamente cerca di allargare la ferita utilizzando il filo spinato che ricopre il ring che comunque, no che ricopre però che c'è attorno al ring e qui guardate Neco Butcher va dritto per dritto un match come vi ho detto un match dove di wrestling vero e proprio se ne vedrà ben poco ma tanta violenza e qui BJ Whitmer sta stubendo l'esperienza maggiore di Neco Butcher che ricordiamo è uno dei capi tra virgolette uno dei personaggi più importanti della Coppa Zop Wrestling e qui BJ Whitmer finisce a contatto con il filo spinato ma questa volta ci va di schiena dove è subito la chop di Neco Butcher che torce il corpo di BJ Whitmer vicino alle corde e vicino a filo spinato quindi ci saranno anche delle ferite sulla schiena di BJ Whitmer così è e qui vediamo Homicide membro di LX in TNA che è a Bordoring e qui guardate come Neco Butcher colpisce ripetutamente BJ Whitmer ormai un BJ Whitmer già ricoperto da sangue siamo a poco meno di 5 minuti siamo a settimo minuto di match e qui attenzione BJ Whitmer evita e blocca Neco Butcher che stava ben colpito con la sedia e va ancora gomitata con la sedia quindi anche Neco Butcher comincia a subire l'azione di BJ Whitmer che è ricoperto da sangue per almeno la testa la fronte la faccia e qui prende un'altra sedia e colpisce con il bordo della sedia il volto di Neco Butcher che per il momento ha dominato il match e qui anche per Neco Butcher arriva in sangue BJ Whitmer ha aperto una ferita sul volto di Neco Butcher e qui BJ Whitmer ovviamente restituisce pappa in focaccia e quindi anche lui vuole far subire a Neco Butcher il dolore che G stesso ha subito agli inizi di questo match e qui BJ Whitmer vuole sentire il calore del pubblico e vuole sapere se vuole vedere Neco Butcher a contatto con il filo spinato così è ha gli sweep sulle corde e guardate il filo spinato che si impianta nella pelle nelle carni nella carne di Neco Butcher qui attenzione un'altra gli sweep dall'altro lato e un altro impatto col filo spinato ecco qua è qui guardate sia sopra che sotto è anche un po' sulle chiappe però sono immagini dure me ne rendo conto ma purtroppo questo match ve l'ho detto non è per tutti e qui addirittura pende BJ Whitmer Neco Butcher e con Neco Butcher che diciamo si tocca il fondo schiena anzi il diciamo il punto più basso della schiena e qui BJ Whitmer chiede consiglio a Homicide che gli prepara un tavolo col filo spinato sopra e qui BJ Whitmer pile driver pile driver di BJ Whitmer su Neco Butcher schienamento uno due no sono conto di due da parte dell'abito il match continua con i due che che sono veramente delle maschere di sangue soprattutto Neco Butcher qui BJ Whitmer vuole andare per un altro pile driver anzi no guardate le ferite sulla schiena di Neco Butcher e qui c'è un brainbuster da parte di BJ Whitmer che tenta lo schienamento ma c'è solo un altro conto di due il match continua con BJ Whitmer che indica il tavolo fuori dal ring ricoperto dal filo spinato per la gioia del pubblico della Ring of Honor e qui potrebbe andare per una powerbomb attenzione BJ Whitmer ha difficoltà nell'alzare Neco Butcher anzi forse Neco Butcher che mette un po' di resistenza ovviamente vuole evitare l'impatto con filo spinato anche se Neco Butcher comunque è abituato ad andare sul filo spinato qui evita il tutto e colpisce BJ Whitmer con un Big Boot e qui guardate Neco Butcher la faccia completamente ricoperta da sangue sembra e qui aia brutta immagine il tappeto del ring anche esso da parte di esso ricoperto da sangue una figura quasi religiosa quella di BJ Whitmer ovviamente non dico altro per non andare nella nella blasfemia e qui i due si scambiano dei colpi durissimi e qui ancora una gomitata da parte di BJ Whitmer che tenta lo schienamento uno due no solo contro i due Necro Butcher ancora resiste nonostante il sangue e nonostante i colpi subiti e soprattutto le ferite creatasi sulla schiena con l'impatto col filo spinato ma BJ Whitmer ancora una volta indica il tavolo fuori dal ring ancora una volta Deco Butcher si salva anzi evita il colpo ed è lui che adesso va con un Lariat al centro del ring e i due già sono stremati dal dolore dalla violenza estrema di questo match stile ultraviolence che si combatte nella lingua boner quindi una fede ultraviolence che è un tratto distintivo di un'altra organizzazione la CZW attenzione Necro Butcher cosa ha preso delle forbici una tenaglia non lo so tenta di colpire BJ Whitmer ma Whitmer si si oppone adesso ma se non se non finisce finisce vittima attenzione e però BJ Whitmer ancora una volta riesce a rovesciare la situazione e spinge Necro Butcher contro il filo spinato con Necro Butcher che però resiste e qui c'è una lotta quasi per la vita con Necro Butcher che vuole colpire BJ Whitmer con questa pinza e BJ Whitmer che ovviamente cerca di evitare tutto e finalmente si salva da morte certa un match veramente estremo questo qui il ringo Bonner qui una sorta di Kinshasa se fosse la mossa finale di Shisuke Nakamura e qui attenzione BJ Whitmer si utilizza un po' di intelligenza e dice ok ci sono delle tenaglie c'è una tronchisa una tronchisina la utilizzo per aprirmi un varco tra il filo spinato che diciamo c'è attorno a tutto il ring e quindi con questo probabilmente o lo vuole utilizzare per colpire Necro Butcher oppure con questo filo spinato vuole diciamo proprio aprirsi un varco tra le corde così può andare direttamente per la powerbomb e così è diciamo ha buttato via tra virgolette il filo spinato e adesso vorrà buttare sul tavolo fuori dal ring Necro Butcher con la powerbomb però Necro Butcher nel frattempo si è ripreso un po' dei colpi subiti dalla stanchezza e dal comunque dal dolore che ha subito durante questo incontro e ha colpito BJ Whitmer e qui attenzione ricordiamo c'è uno spazio c'è un lato del ring che ormai non ha più non ha più il filo spinato quindi potrebbero andare fuori dal ring tranquillamente qui Necro Butcher si tocca il fianco il pettorare forse qualche colpo subito prima qui però alla forza di prendere BJ Whitmer sopra le sue spalle però BJ Whitmer si libera colpisce Necro Butcher la schiena attenzione waistlock Necro Butcher però va con il low blow e attenzione lui potrebbe andare per la power bomba ma BJ Whitmer resiste ma questa volta non esiste e sono tutti e due porca di una puttana trona bucchina sono entrambi che vanno a finire sopra il filo spinato sopra il tavolo fuori dal ring mamma mia che colpo incredibile una sit down power bomb sul tavolo fuori dal ring ma entrambi vanno ad impattare col filo spinato una mossa tremenda incredibile qui arrivano anche altri addetti ai laburi addetti al ring arriva Homicide che ovviamente cerca di staccare BJ Whitmer dal filo spinato una scena raccappicciata guardate la schiera di BJ Whitmer ovviamente ricoperta dalle ferite e dai buchi che si sono formati grazie all'impatto con il filo spinato guardate la difficoltà che stanno avendo i addetti al ring per staccare il filo spinato soprattutto dai capelli di BJ Whitmer visto che il BJ Whitmer ha una capigliatura piuttosto folta guardate qui Homicide che ovviamente ha i guanti cerca in qualche modo proprio di staccare l'ultimo pezzo di filo spinato che è rimasto tenacemente attaccato alla capigliatura di BJ Whitmer ma nel frattempo dall'altra parte c'è Necro Butcher che anche guardate qui la schiena anche stessa sanguinante qui Necro Butcher prende una sedia ma nel frattempo Homicide ha salvato guardate la schiena di BJ Whitmer guardate la schiena di BJ Whitmer completamente devastata dalla powerbomb subita e guardate qui il filo spinato che è stato protagonista come giusto che sia visto che questo è un no rope barbed wire il match qui Homicide comunque cerca in qualche modo di incoraggiare BJ Whitmer a continuare il match e BJ Whitmer rientra nel quadrato non si sa come e qui attenzione Necro Butcher carica BJ Whitmer sulle spalle ma BJ Whitmer riesce ancora una volta ad uscire attenzione potrebbe andare per un suplex e lo fa anzi un brain buster sulla sedia mamma mia del Carmine santa riuscita santa barba attenzione BJ Whitmer si la metta uno due no solo conto di due solo conto di due BJ Whitmer stremato è stremato la ferita si sarà anche chiusa sulla fronte anche perché non sanguina più però la schiena veramente è qui guardate la sedia anch'essa macchiata dal sangue che i due atleti hanno cacciato all'interno di questo incontro siamo quasi a 20 minuti l'incontro è stato un massacro è qui aia aia c'è un sacchetto c'è un sacchetto che viene gettato nel ring BJ Whitmer lo apre vediamo cosa c'è all'interno solitamente ci sono le puntine da disegno ma ci possono essere anche i cocci di metro e no sono le puntine da disegno sono le puntine da disegno quindi il match possibilmente aumenta ancora di più la soglia della violenza proposta e qui attenzione BJ Whitmer attenzione dopo lo underhook power bomb sulle puntine di disegno porca puttana uno due no mamma mia BJ Whitmer mamma mia BJ Whitmer a cosa a cosa sta resistendo quanto sta resistendo BJ Whitmer porca di una puttana troia scusate se sono volgare ma non riesco minimamente a a risultare indifferente alla violenza estrema e qui guardate come Nick Butcher ancora sparge le puntine da disegno ancora a terra BJ Whitmer sulle puntine da disegno tenta ancora lo schilamento ancora una volta BJ Whitmer esce al conto di due un BJ Whitmer che veramente sta dimostrando di avere una resistenza fuori dal comune ha perso anche una ciocca di capelli sicuramente ha perso una ciocca di capelli con filo spinato però qui due impatti con le puntine da disegno due a terra ecco attenzione però BJ Whitmer lancia il puntine da disegno sugli occhi di Nick Butcher aia e poi a far atterrare Nick Butcher con i piedi sulle puntine da disegno ancora un T-Bone suprac sulle puntine uno due no sono due solo due mamma mia questo match è veramente un massacro sta rispettando veramente la nomenclatura del match è un un barbell wild match ma è veramente un massacro e qui aia BJ Whitmer indica il tavolo col filo spinato posizionato all'angolo e sicuramente questa volta vorrei vareva andare Nick Butcher vorrei mandare Nick Butcher contro attenzione BJ Whitmer attenzione Big Booth Nick Butcher la evita lo evita attenzione ancora 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 e ancora BJ Whitmer che finisce sulla mamma mia mamma mia mamma mia ancora BJ Whitmer che finisce sul filo spinato un non so manco che bossa era però BJ Whitmer due due atterramenti sul filo spinato due atterraggi atterramenti vabbè ho perso anche le capacità di parlare italiano non è che l'abbia mai avuta ma vabbè due atterraggi sul filo spinato due atterraggi sulle puntine da disegno e BJ Whitmer ancora nel match è ancora nel match e il negro Butcher non è abbastanza prende le sue sedie ma le posiziona al centro del rig ma le posiziona anche distante e forse mentre qui l'arbitro sta avendo una difficoltà enorme nel staccare i capelli di BJ Whitmer attaccati al filo spinato secondo me BJ Whitmer ha bisogno di un taglio di capelli nei sessi da un taglio di capelli e finalmente si libera mamma mia mamma mia attenzione Neckobuch prende l'altro tavolo anche se non è un tavolo lo so comunque la lastra di legno col filo spinato sicuramente e attenzione però BJ Whitmer colpisce la lastra con un big boot poi la prende aia la vuole estendere sicuramente sul Neckobuch così è Neckobuch è sotto la lastra di legno col filo spinato e qui BJ Whitmer prende una sedia e colpisce ripetutamente la lastra col filo spinato che ovviamente ricopre tutto il corpo di Neckobuch che ovviamente finisce a contatto col filo spinato e qui BJ Whitmer sta veramente facendo qualcosa di incredibile qui addirittura prende una scala indica Homicide di prendere una scala che ovviamente immediatamente passa all'interno del ring e qui BJ Whitmer apre la scala sicuramente è qui il pubblico della Ring of Honor che canta please don't die please don't die cioè per piacere non morire e qui però BJ Whitmer se ne sbatte il cazzo nonostante abbia una schiena martoriata dal filo spinato vuole chiudere il match vuole finire il match e si lancia sulla lastra con Neckobuch che è sotto col filo spinato e qui Neckobuch secondo me è K.O guardate Neckobuch che che scalpita dal dolore ma nonostante tutto esce al colto di due ah vabbè Neckobuch è un sadico di merda lo sa chi conosce la luta violence sa che Neckobuch è un sadico e anche un masochista ama il dolore qui attenzione i due ancora BJ Whitmer ancora un tipo suplex al centro del ring uno due tre BJ Whitmer batte Neckobuch batte Neckobuch in questo incontro perché ovviamente è vero che aveva di fronte un esperto dell'ultra violence come Deckobuch però BJ Whitmer ha resistito all'impossibile c'è alla schiena ormai martoriata ha un volto tumefatto anche perché prima nell'ultimo impatto col filo spinato una cosa che non ho sottolineato si è aperta anche una ferita sulla gota destra e quindi BJ Whitmer rischia veramente di rimanere sfregiato dalla violenza subita in questo incontro però BJ Whitmer resiste a tutti i colpi subiti da Neckobuch e non solo lo batte pure nella specialità di Neckobuch ovvero nel wrestling ultra violent bene su queste immagini io vi saluto vi ringrazio per aver visto anche questo video fino all'ultimo immagino sia stato uno spettacolo non proprio comune è uno spettacolo fuori dal comune uno spettacolo per pochi per chi veramente apprezza un certo tipo di violenza però non potevo non fare anche un incontro del genere per dare una completezza del wrestling che è presente sul territorio americano bene su queste immagini io vi ringrazio vi saluto sono un po' provato devo dire la verità devo essere sincero sono un po' provato nella visione nell'aver commentato questo incontro ma sono sopravvissuto bene come detto su queste immagini io vi saluto vi ringrazio e vi do appuntamento al mio prossimo video sempre qui su youtube e vi ringrazio su youtube Grazie a tutti.